Ma come musicista, no? Hai cominciato a studiare il pianoforte all'età di 11 anni. Poi sei andato a fare parte di cori, ho studiato, ma... Sei andato a fare parte di alcuni cori come voce bianca quando eri piccolo, poi come tenore addirittura nei cori lirici. Lorenzo vanta già un curriculum di tutto rispetto. Quanti anni hai, Lorenzo? 18. Ah, proprio, sei, appena compiuti, quindi sei... Ah, proprio, appena mangiaremmi. Eppure già sei finalista, sei semifinalista addirittura del Festival di Castrocaro. Quindi hai un curriculum alle spalle che promette bene. Lorenzo questa sera ci presenterà un suo pezzo, un pezzo inedito, che è anche un video su YouTube, quindi potete cliccarlo. Il titolo di questo pezzo è Io e Lorenzo. Credo sia un pezzo autobiografico, naturalmente. L'hai scritto tu? Aspetta, aspetta, facciamo una cosa alla volta. L'ha scritto un autore che si muove, che si chiama Patrizio Medell'Artista. Ok, allora, sentiamo questo brano inedito di Lorenzo, La Torre. Grazie. Grazie. Lorenzo mi disse che un giorno non troppo lontano potrebbe finire tutto, o che tutto potrebbe sfuggirci di mano. Come sfugge di mano un bicchiere, preso con poca attenzione, con poca attenzione. Sarà forse la grida in tuo rito di chiedi, per favore, mi dica quanto tempo ho a disposizione. Lui mi disse che nessuno può saperlo, ma resti vero a non spiegarlo. Forse sarà meglio che io faccia questo, a fare tutto quello che non ho fatto ancora. Com'è, ad esempio, fare l'autostop in Cina, più dubbi a cambi di passione, con il canto in Argentina. In Argentina. Com'è, ad esempio, non aver paura, nell'aprire un po' e lasciarsi conquistare. Non aver paura, nel senso di vita. Lorenzo mi stava correndo, sotto la pioggia al vento, con lo stesso tranccio di chi non ha un tempo. Seguo a questo passo veloce, curioso, di chiedere cosa è meglio che io faccia, ma che tutto finita. Lui mi disse che nessuno può saperlo, ma faresti bene a diventare il passo. Forse sarà meglio che io faccia questo, a fare tutto quello che non ho fatto ancora. Com'è, ad esempio, fare l'autostop in Cina, e dubbi a cambi di passione, con il canto in Argentina. In Argentina. Com'è, ad esempio, non aver paura, nell'aprire un po' e lasciarsi conquistare. Spero soltanto che poi non manchi niente, all'appello delle cose essenziali da fare. Com'è, ad esempio, non aver paura. Com'è, ad esempio, Tanate. C'è il problema. C'è il problema. come ad esempio fare l'autostop in Cina e dubbiacarmi di passione mi stanno in Argentina in Argentina come l'esempio di un'avventura nell'aprivo di porto e lasciarsi conquistare dalla vita